Ciao ciao da canale Nikita Uai, pensate che giochiamo con la navicella dei Rollins Però questa cosa è una cosa da costruire Al posto della navicella dei Rollins Avevo la coda e la marcella Più divertente La casetta dei biscotti Vuoi una mano? Siiii Andiamo un po' Arriva la magia tra un po' di ora Un po' qua Oh, i biscotti, a mangiarli eh, poi cosa dobbiamo usare? Sembrano buone, uh bella, e come si monta, si è capace, attenzione, uh le finestre con la porta, la porta degli affarini, ecco qui abbiamo fatto la glassa con lo zucchero a velo e l'albume dell'uovo, ecco qui ci sono le istruzioni, ristruzioni, e adesso vediamo di montarlo, dai, prova, inizia allora, parti dalla base, metti la base, Oh, mio Dio! non ce la faccio, ma come non ce la fai, dai, monta, su, edo, mi conviene di mangiarla, guarda, dai, prova, vediamo se riusciamo, non riusciremo mai, oh, non attacca niente con le mani in glassa, o si è spezzata, senta, 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 tena, un pezzo di tetto, mettiamo un pezzo di tetto mi fa un po' paura andiamo, attenzione, andiamo, attenzione, ma cosa fai? la prossima volta la farò un po' più, un po' meglio non 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 non